Anticipazione un posto al sole martedì 15 ottobre 2019 Beatrice fa di tutto per tenere Diego lontano dalla sua vita ma lui diventa sempre più possessivo nei suoi riguardi. Raffaele se ne accorge. Aldo invece ha maturato una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Le cose però cambiano improvvisamente e prendono una piega drammatica e inaspettata. Andrea e Arianna ottengono l'idoneità all'adozione. Qualcuno però a dispetto dei loro stessi pronostici non accoglie la notizia nei migliori dei modi. Perché? Beatrice intanto è esasperata e non sa più cosa fare con il Giordano. Grazie a tutti.